Rosalie di Stéphanie di Giusto. Stéphanie di Giusto, un film francese del 2023, è uscito recentemente al cinema, è rimasto ancora in qualche sala, provate a vedere se lo trovate. Parto subito dicendo che ve lo consiglio, poi dipende chiaramente se vi interessa il tema oppure no, se no non ve lo consiglio proprio. È indubbiamente un buon film Rosalie, è diretto bene, girato bene, recitato benissimo, è un film di un'ottima qualità diciamo. Quello che conta è come tratta questo argomento e secondo me lo tratta molto bene. L'argomento qual è? Rosalie parla di Clementine Deley, una donna francese appunto con questa disfunzione, non so esattamente che tipo di malattia o insomma condizione medica particolare si tratti, che praticamente la portava ad avere la barba. Ma lei era una donna a tutti gli effetti, aveva molta più peluria di una donna normale diciamo e poi una barba, ma una barba, una barbona, una barba gigante no? Che poi nel film è stata rappresentata abbastanza bene, ma le foto che rappresentano questa donna che visse appunto nel XIX in Francia nel XIX secolo, aveva invece una barbona, anche se la faceva crescere molto più lunga. La storia è di cui appunto è romanzata, cioè non è presa paro paro, ma ci sono tanti elementi comuni, vede questa donna data in sposa a un uomo che è appunto, insomma lui ha problemi di soldi, poi si trova questa donna di fronte, però se la trova senza la barba, se la trova insomma mascherata, con la barba nascosta, tagliata, e quindi insomma essendo poi una donna attraente, bellina, rimane sorpreso, poi chiaramente quando arriva il momento di consumare con sua moglie, scopre di essere stato tra virgolette imbrogliato, cioè insomma che gli hanno mentito, gli hanno mentito, non gli hanno raccontato questa condizione. Da lì poi chiaramente si susseguiranno una serie di eventi e i due svilupperanno un rapporto che non vi voglio svelare, non vi voglio dire neanche perché lei poi decide di farsi crescere la barba, perché è un personaggio che avrebbe comunque potuto mascherare questa particolarità e rimanere una donna, quindi scegliere di nascondere qualcosa che per gli altri è mostruoso, per gli altri è motivo di derisione, motivo di attrazione, motivo di spettacolo, perché in quell'epoca le donne barbute o le donne deformi o gli uomini deformi o con particolari cose che le ridevano a dei freak che venivano assunti o comunque adottati o assunti dai circhi e da queste realtà qua, quindi non vivevano come donne normali, quindi con marito, figli e cose del genere, ma diventavano dei fenomeni da baraccone, quindi Rosalie o meglio Clementine, la vera, la donna vera che ebbe questa storia qua, non voleva accettare questa condizione, quindi è un film importante da questo punto di vista, parla di essere soli contro tutti, non si tratta di essere, è qualcosa che va oltre la diversità per come la conosciamo, cioè la diversità di gusti sessuali, tu oggi sei gay, certo non te la passi bene, avrai tanti problemi, tante persone ti discrimineranno, però avrai anche tanti alleati, hai tanti alleati, tante persone che stanno dalla tua parte, è molto meglio così, è molto meglio non sentirsi soli, ecco, essere una donna con la barba, una malattia o comunque una condizione piuttosto rara, fatta in quel modo, ti rende neanche diverso, unico e decidere di imporre la propria unicità in questo modo è una scelta estremamente coraggiosa, quindi scegliere di essere una donna che fa un lavoro normale, sposata e non andare in un circo a fare questo tipo di cose, cioè farsi vedere, prendere i soldi, le risate, la curiosità della gente, è un film che parla di questo, quindi è anche un film che in qualche maniera infonde una certa energia allo spettatore, perché è quasi, non lo so, ti fa sentire come se tu fossi Rosalie, in qualche modo io che non ho particolari stranezze, nel senso, vabbè, ho la faccia che ho, però mi sono sentito anch'io diverso in qualche maniera, mi sono sentito dalla sua parte, mi sono sentito che anch'io volevo che le persone rispettassero la mia diversità, anche se la mia diversità è una diversità non percepita, non così estrema, non così particolare, però volevo far parte di quel gruppo lì, delle persone che non mi devi rompere il cazzo, ok? La diversità è un cazzo di diritto, e quindi questo film io l'ho amato particolarmente per il suo contenuto, anche se devo ammettere che è molto bellino esteticamente, non è un film che mi ha colpito per la regia, ripeto, bella, ma mi ha colpito proprio per il contenuto e per la costruzione di un personaggio che ho guardato con ammirazione, un bellissimo personaggio, chiaramente romanzato, io non conosco il vero carattere di Clementine, ma ho visto il personaggio di Rosalie, è un personaggio forte, orgoglioso, combattivo, e ho apprezzato tantissimo come la regista è riuscita a mettere in discussione anche in qualche modo la mia sessualità come spettatore, cioè io vedendo Rosalie così bella, ma poi con quella barba, quindi successivamente con quella barba, ho provato l'iniziale fastidio, ma, e questa è una cosa interessante, col passare del tempo e con l'abitudine nel vedere questo personaggio diverso, ma abituandomi alla sua diversità, poi il film ha anche delle scene erotiche, diciamo, è riuscito, è riuscita la regista a creare un personaggio sensuale, cioè a dimostrarmi come la sessualità, la sensualità, l'attrazione sessuale, l'erotismo, sono condizionati fortemente e come si possono anche scardinare questi condizionamenti, con una narrazione che ti seduce, con un personaggio che ti sa sedurre, quindi la seduzione è qualcosa che questo film te lo insegna, va oltre l'aspetto fisico, no? Per quanto poi comunque a fare la donna barbuta ci troviamo una figa, perché l'attrice è figa, particolarmente figa, poi è proprio il mio genere, cioè nel senso è... per cui, però ecco, è molto interessante questa cosa, le scene comunque di rapporti erotiche così con questa donna, con i peli, sono particolari, perché non diresti mai, eppure riescono a rompere delle cose in cui credevo che invece... per cui è molto interessante, è un film, a parte questi aspetti appunto sociali e psicologici, è un film che ha una dolcezza dentro incredibile, è un finale che vi giuro non ho pianto, perché ero in presenza, però avevo voglia di piangere, avevo voglia di commuovermi, mi è piaciuto veramente tanto da quel punto di vista, quindi Rosalie è veramente un ottimo film, non solo ottimo, ma anche un film utile, un film che deve esistere, un film che deve essere visto, questo è un po' tutto per quanto riguarda Rosalie, di Stefani Di Giusto.